Nuovo blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Palermo, dopo l'operazione della scorsa settimana che aveva portato al sequestro per oltre 25 kg di stupefacente e sei arresti. Altre 12 persone sono finite in manette con un cospicuo sequestro di quasi 200 piante e 20 kg di droga. La compagnia di Piazza Verdi ha arrestato tre persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo una perquisizione a casa di un 32enne Sita e Enciaciulli, hanno rinvenuto una piantagione con 25 piante circa di cannabis e quasi 10 kg di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione, peraltro, era corredata di lampade di un sistema di aereazione e irrigazione abusivamente collegata alla rete elettrica. Nei presi della stazione centrale, l'intervento di unità cinofila del nucleo di Palermo ha portato all'arresto di un 22enne palermitano trovato in possesso di altri 50 g di hashish. Un altro 22enne, sempre palermitano, allo sperone, è stato arrestato perché è trovato di notte per strada con numerose dozzi di crack, cocaina e hashish, oltre a 160 euro in banconote di piccolo taglio. Ancora Manette nel quartiere Zen 2, dove un 36enne ai domiciliari è stato trovato in compagnia di altre tre persone in un'area di pertinenza della casa, dove i militari hanno trovato la presenza di una coltivazione di 100 piante di cannabis e 9 kg di marijuana essiccata. Manette ha polsi anche per due pusher, un ventenne palermitano colto in fragranza di reato allo sperone mentre cedeva droga a un coetaneo e un 34enne di origine tunisina nei vicoli del mercato di Ballarò. Entrambi erano in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish di oltre 300 euro, ritenuti di illecita provenienza. Infine, la compagnia di Palermo San Lorenzo ha arrestato nei pressi di via Monte Pellegrino due fratelli di 19 e 24 anni, trovati in possesso di quasi 100 grammi tra hashish e marioane, circa 9.000 euro in manconote di piccolo taglio ritenute il frutto dell'attività di spaccio. Poco distante, è finito in manette anche un cinquantenne trovato con un etto di hashish albimente celato nella pattugnera insieme a rifiuti domestici. Tutti gli arresti sono stati convalidati dalla GIP del Tribunale di Palermo e la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative. Ennesimo colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, che hanno arrestato tre pusher con circa 15 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 70 grammi di marijuana, sottratti a un redditizio mercato della droga. Nello specifico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno portato a termine con successo un mirato servizio volta al contrasto dello smercio di droga nel popoloso quartiere San Cristoforo, al termine del quale hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 23enne pregiudicato catanese e due fratelli minorenni, di cui il più grande pregiudicato. I carabinieri hanno scoperto come tre, già noti per pergresse vicende giudiziarie connesse con l'attività di spaccio, avessero allestito un florido commercio di stupefacenti, spostandosi da una precedente zona di spaccio sempre nel quartiere San Cristoforo, verso via Lonzo e Consoli, a un'abitazione sita al secondo piano di uno stabile, a due passi della centralissima via della Concordia. Particolare dell'attività illecita messa in piedi dal trio di pusher, oltre alla redditività delle vendite, anche l'assortimento delle droghe offerte a propri acquirenti. Chiariti tutti i dettagli relativi all'ipotesi investigativa, i militari dell'arma hanno quindi deciso di avviare una serie di servizi di osservazione a distanza e in modalità discreta nei pressi della palazzina in questione, attendendo il momento più propizio per poter fare eruzione nell'appartamento adibito a base operativa dello spaccio. Scattato il blitz, gli investigatori hanno così trovato di fronte un vero e proprio fortino della droga. Il soggiorno dell'appartamento era organizzato in maniera completamente funzionale all'attività di spaccio. In primo luogo, su una parete era stato installato un grande monitor di 65 pollici, su cui passavano in real time le immagini di nove videocamere, che avrebbero consentito ai pusher di monitorare tutto il perimetro della palazzina, credendo di poter prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. Ancora ridosso della grande tv, erano stati posizionati due pulsanti che permettevano il primo l'apertura del portone d'ingresso e il secondo l'apertura della porta blindata. Al centro della stanza, poi, una vasta scelta di stupefacenti, quali marijuana, cocaina e crack, già suddivise in dosi confezionate con carta stagnola. Seduti nei pressi del tavolo, il 22enne e il maggiore dei fratelli gestivano la droga in esposizione, mentre il minore dei fratelli, che in un primo momento non si era accorto che quelli in borghese fossero i carabinieri, si occupava dello smercio ai clienti. Gli investigatori hanno immediatamente recuperato tutta la droga in esposizione e perquisito i tre pusher, uno dei quali, il più giovane d'età, teneva nella tasca dei pantaloni 150 euro in contanti, sicuro provento dell'attività a dispaccio. Tutta la droga è stata sequestrata e i tre pusher sono stati arrestati presso il carcere di Piazza Lanza e il maggiorenne e, per i minorenni, la custodia cautelare presso un istituto per minori. Il governo Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica, una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza del lungo periodo di siccità e della rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. L'obiettivo del provvedimento, che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri, è quello di garantire acqua e potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricoli e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate nei cantieri dell'isola. La siccità in Sicilia sta diventando drammatica, ha detto il presidente Renato Schifani. La regione ha già messo in campo una serie di azioni per mitigare la crisi, aiutando i settori produttivi e limitando i disagi ai cittadini, ma servono anche urgenti interventi statali per operare su reti e sistemi di approvvigionamento idrico e per sensibilizzare i cittadini a un uso più razionale della risorsa. Inoltre, ha aggiunto, sono necessari sgravi fiscali e contributivi, moratori e sospensione di addimpimenti per le imprese del settore agricolo e zootecnico che sono in gravissima difficoltà. Il presidente della regione ha dichiarato che una relazione della protezione civile regionale indica interventi a brevio termine per mitigare la crisi e il costo delle azioni è di circa 130 milioni di euro, mentre di quella a medio termine è di 590 milioni di euro. Il 2 aprile è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale dell'ONU. La ricorrenza richiama l'attenzione su tutti i diritti delle persone nello spettro autistico. In tal senso, la regione siciliana si ritiene fortemente impegnata nella salvaguardia dei diritti di queste persone, con politiche mirate a una società più inclusiva e accogliente. A dichiararlo è il governatore Renato Schifani, che ha annunciato che, a questo scopo, ha destinato oltre 8 milioni di euro per progetti che riguardano interventi sanitari, ma anche attività di integrazione sociale, pensate con un nuovo approccio che assecondi le potenzialità di ogni soggetto autistico. L'impegno della regione in quest'ambito è invece, ha dichiarato l'assessore regionale alla famiglia e politiche sociali Nuccio Albano, falleva su quattro importanti avvisi finalizzati a rafforzare servizi per le persone che soffrono di questi disturbi, così da permettere loro di gestire in maniera più adeguata le difficoltà quotidiane, favorendone al contempo la partecipazione sociale. Si tratta di azioni di inclusione, ha aggiunto l'assessore Albano, con progetti da salvare in ambiente esterno, quali sport, musica, arte e teatro. L'obiettivo è migliorare lo stile di vita attraverso l'acquisizione di autonomia personale, lo sviluppo di competenze sociali ed emotive, il miglioramento del benessere fisico e psicologico e lo sviluppo delle abilità motorie. Accendere una luce sull'autismo e mantenere viva quindi l'attenzione su un disturbo sempre più frequente, talvolta ignorato da chi dovrebbe prendersene carico, è l'obiettivo di tutti. A tal proposito, così come i monumenti di molte città italiane e del mondo, anche quelli della nostra provincia si sono illuminati di il blu, il colore dell'autismo, aderendo così alla campagna internazionale Light Up Blue, il luminolo di blu. Anche quest'anno la città di Siracusa e l'intera provincia è stata coinvolta in questa significativa iniziativa. Sono stati illuminati di blu i monumenti o i palazzi di città. Prevista anche una manifestazione dal titolo Noi ci siamo, organizzata dalla neuropsichiatria infantile dell'ASP di Siracusa in collaborazione con il Comune, che si svolgerà domani a partire dalle ore 9 nel piazzale del presidio ospedaliero Rizza in Viale Pipoli. Protagonisti saranno gli alunni degli istituti comprensivi di primo grado, assieme agli insegnanti e alle associazioni familiari e sportive di categorie che operano sul territorio. Saranno giornate di riflessione e di sensibilizzazione sul tema della neurodiversità, ha dichiarato il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia. La manifestazione vedrà la realizzazione di laboratori artistici e di performance a cura dell'istituto Gaggini e degli istituti comprensivi partecipanti. Una giornata importante invece ha definito il commissario straordinario dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone, che richiama l'attenzione sui diritti delle persone con spettro autistico per promuovere la consapevolezza del rispetto della persona e migliorare la qualità della loro vita e delle loro famiglie. La regione siciliana aderirà alla giornata del Made in Italy, istituita il 15 aprile dall'omonima legge quadro nazionale. Un evento lungo tre giorni che vedrà le imprese mettere in risalto le eccellenze artigianali dell'isola. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'attività produttiva Edita Maio, che ha sottolineato che l'iniziativa coinvolgerà le imprese palermitane dal 14 al 16 aprile ed è stata inserita, dice, tra gli eventi promossi dal Ministero per le imprese e per il Made in Italy. Nell'arco di tre giorni, aziende di vari settori, come quello tessili del sistema casa, dell'orificeria e dell'agroalimentare, allestiranno nei propri negozi del capoluogo una vetrina che metterà a risalto le produzioni delle maestranze locali, esponendo il logo dell'evento nazionale. Il titolo che abbiamo scelto, ha aggiunto l'assessore Ta Maio, è Celebrando il Made in Italy, saper fare creatività in vetrina, perché vogliamo invitare le aziende a mettere in mostra l'arte e il design che caratterizzano lo stile italiano, celebrando al tempo stesso il patrimonio storico e creativo del nostro paese. L'iniziativa accolta dal MIMIT, ha concluso Ta Maio, rappresenta un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità delle produzioni locali e il saper fare degli artigiani e delle giovani imprenditrici che operano in Sicilia.